Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 per lavori di pavimentazione giovedì notte in orario 22.6 sarà chiusa l'uscita di chiusi per chi proviene sia da Bologna che da Roma. A Firenze sul ponte Vespucci lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra. Arriva anche la pista ciclabile. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!